Chiamiamo Feltri, vai, vai. Vittorio, sono Cruciani, siamo qui alla radio, come va? Bene, ma... Senti, Vittorio, qui le associazioni gay sono molto incazzate, lo sai? La situazione è gravissima. Detto questo, la situazione è molto grave e non c'è un cazzo da ridere. Gravissima. Frega, assolutamente un cazzo. Cioè, nel senso che, io pure l'ho detto sin dall'inizio della trasmissione, cioè, Feltri ha detto una cosa ovvia, ha detto una cosa ovvia, che il culo è un'uscita di sicurezza e non un'entrata secondaria. Mi sembra ovvio. Lo sanno tutti, anche i bambini che fanno la cacca. Sì, però bisogna anche dire che gli omosessuali, e non solo gli omosessuali, utilizzano il di dietro anche come strumento sessuale. Questo bisogna dire. Non lo farei loro, ma io però segnalo e sottolineo che si tratta di un organo di uscita, non di entrata. E quindi non è, diciamo, compatibile con la natura umana.